benvenuti tutti qui balconi tv trento io sono fabrizio oggi trasmettiamo dalla terrazza del burnout della cooperativa samuele qui a villa santignazio di trento e sono in compagnia di gabriele che ci farà ascoltare il suo brano la retorica buon ascolto il cielo e la terra il suo milione di abitanti che presi tutti insieme valgo meno di me e una sirena suona ancora nella notte buia ed un uomo sta scappando più veloce di me e senza fiato corre l'uomo con il suo bottino in mano che guardando bene sembra proprio magro forse infine è solo la paura che si fa sentire siamo fermi da un bel po in questo punto forse infine è solo la paura che si fa sentire siamo fermi da un bel po in questo punto ci dicono alla tele che se vuoi che vada bene ti devi adattare a questo schifo di vita così sulle tragedie tu ci puoi giocare da casa mentre il mondo va a puttane ma è tutto normale si parla sempre del passato perché appunto è già passato intanto il futuro viene archiviato vestiti tutti uguali con servizi artificiali ed amici virtuali che puoi condividere che adesso va di modo a far sapere con chi sei in che posto stai andando e quanto ti fermerai forse infine è solo la paura di restare soli siamo fermi da un bel po in questo punto forse infine è solo la paura di restare soli siamo fermi da un bel po in questo punto ci tocca lavorare ma non c'è niente da fare quando arrivi a fine mese chi ti pagherà le spese la macchina e i tuoi vizi qualche sfizio personale e ti viene da pensare a chi sta peggio di te paura di ammalarsi assumere medicinali ma leggendo attentamente le controindicazioni ci lamentiamo di tutto ma ci accontentiamo di poco che noi il mondo lo cambiamo solo col bicchiere in mano forse infine è solo la paura di restare soli siamo fermi da un bel po in questo punto forse infine è solo la paura che si fa sentire siamo fermi da un bel po in questo punto io canto del mio tempo e non di quello che è passato non avrebbe senso io canto del mio tempo e non di quello che è passato non avrebbe senso wow Gabriele complimenti complimenti canto del mio tempo canto del mio tempo esatto assolutamente quindi questo brano la retorica cosa ci vuoi dire a proposito di questo brano tutto e niente di per sé nel senso sono una serie di pensieri miei sulla visione che ho io di tutto di questa vita è una visione realistica comunque si può essere condivisa è una bella fotografia diciamo grazie assolutamente questo brano dove lo possiamo trovare Gabriele? lo potete trovare su soundcloud www.soundcloud.com slash Gabriele Guarnieri dove è praticamente la quarta traccia dell'album la controindicazione se non sbaglio quarta o quinta non mi ricordo quindi è inserita in un disco? è inserita in un disco sì in un disco che ho registrato a casa l'anno scorso e appunto lo potete trovare su soundcloud ok è un disco quindi fatto a casa da te? sì un disco registrato a casa interamente da solo chitarra e voce? chitarra e voce quindi andate ad ascoltarlo assolutamente hai fatto un disco come facevano i cantautori sì dai sì possiamo dire di sì molto bene penso di sì e adesso stai lavorando a materiale nuovo? sto lavorando a materiale nuovo e vediamo cosa salta fuori molto bene quindi ci aspetta seguiamo, seguiamo Gabriele nel suo progetto e attendiamo il disco nuovo Gabriele dov'è che possiamo appunto seguirti sui social che tanto sui social che tanto canto sì su soundcloud al momento e basta di per sé perché c'è facebook però è dove poi condivido le tracce di soundcloud ok perfetto suoni anche dal vivo? possiamo trovarti dal vivo? suono dal vivo sì mi potete trovare ogni tanto in giro per qualche locale a cantare e lì proponi i brani tuoi? lì propongo i brani miei dell'album in più alcuni inediti che ho già scritto e canzoni cover dei cantautori italiani molto bene sì assolutamente Gabriele noi ti ringraziamo per esserci venuto a trovare grazie a voi assolutamente noi ringraziamo anche la cooperativa Samuele che ci ha ospitato oggi a BPM che permette la produzione di Balconi di Vitrento e noi insomma di nuovo ti rinnoviamo il saluto ti auguriamo il meglio a voi e noi vi salutiamo con il nostro consueto e amato stay with us grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti